Sette persone sono risultate positive all'alcol test, 181 dall'inizio dell'anno. Tra le persone denunciate, intensa attività della Polizia Stradale di Ragusa e Vittoria nel fine settimana nelle strade provinciali con un servizio finalizzato a prevenire le stragi del sabato sera. I controlli sono stati effettuati venerdì sera, nelle prime ore di sabato e domenica mattina sul litorale ragusano che va da Pozzallo a Scoglietti. Sono risultati positivi all'alcol test, un vittoriesi di 29 anni trovato con un tasso alcolemico pari a 0,64. Per lui è scattata una sanzione amministrativa e la decurtazione di 10 punti. Stessa sanzione per un modicano di 21 anni trovato con un tasso paro a 0,59. Sanzione penale e decurtazione di 10 punti per altre 4 persone. Un modicano di 35 anni trovato con un tasso alcolemico pari a 2,73. Un ragusano di 33 anni trovato con un tasso alcolemico pari a 1,12. Un modicano di 32 anni con un tasso pari a 0,96. Ed un rumeno di 25 anni che è coinvolto in un incidente stradale autonomo e sottoposto all'alcol test è stato trovato con un tasso alcolemico pari a 2,05. Infine un turnesino di 33 anni coinvolto in un incidente stradale autonomo e sottoposto all'alcol test è stato trovato con un tasso alcolemico pari ad 1,16. Anche per lui è scattata la sanzione penale e la decurtazione di 10 punti della patente di guida. La guida in stato di ebrezza continua ad essere una delle principali cause di incidenti mortali pertanto la polizia stradale continuerà ad intensificare i controlli nel fine settimana allo scopo di prevenire il fenomeno delle strage nella nostra provincia. Durante il fine settimana inoltre la prostrada ha denunciato 3 persone di cui 2 per violazione degli obblighi di custodia in quanto al momento del controllo non aveva la disponibilità del veicolo custodito ed una perché trovata con attestazione di revisione falsa sulla carta di circolazione.